Sono più di 600 le videoslots sequestrate dalla Guardia di Finanza di Torino in tutta Italia, oltre 80 le schede contenenti software contraffatto e più di 1500 stampe pubblicitarie, due gli imprenditori denuncianti per aver riprodotto le immagini dei personaggi di Star Wars senza le previste autorizzazioni della società detentrice del marchio. Numeri che riguardano la maxioperazione, portata a termine dalle fiamme gialle, chiamata Yoda dal nome del carismatico maestro Jedi. Nei guai, una nota azienda di Rimini, le indagini sono state condotte dal gruppo Torino e coordinate dalla procura della Repubblica Sabauda, che hanno appurato come i due denunciati usavano abusivamente le immagini dei famosi personaggi della saga della Lucasfilm per realizzare videoslots all'insaputa della Walt Disney, unica detentrice dei diritti di immagini. Le schede di giochi illegali venivano realizzate da due note aziende del settore con sede a Faenza, ne ravennate e commercializzate in tutta Italia da una nota azienda di Rimini. La condotta è apparsa da subito particolarmente disdicevole, non soltanto perché non venivano corrisposti i dovuti diritti di immagine, spiega la nota alla Walt Disney, ma soprattutto perché si sfruttava illegalmente la positiva immagine di eroi che hanno entusiasmato più di una generazione, stimolando l'onerosa dipendenza dai videogiochi fino ad avere proprie forme di ludopatia. L'operazione ha coinvolto 144 reparti della Guardia di Finanza dislocati su tutto il territorio nazionale in quanto le videoslots erano installate in più di 420 locali pubblici. L'operazione Yoda costituisce l'intervento più imponente realizzato in Italia nel settore del contrasto al gioco illegale per quanto riguarda il materiale sequestrato.